Buonasera a tutti amici di YouTube, benvenuti sul mio canale. Ragazzi, ragazzi, si è conclusa la settima giornata di Serie A. Volevo rispondere a molti tifosi rossoneri, anzi scusate non molti, una piccola parte di tifosi rossoneri che ho letto su vari social arrabbiati e non si può perdere con il Napoli, non è una cosa che va bene, il Milan deve essere un'altra cosa, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, allora, veniamo a noi, veniamo a noi. Gente che ha scritto, ho fatto i chilometri, eccetera, eccetera. Allora, io spero che voi state scherzando, perché se no o ci siete o ci fate. Il Milan non perdeva da 22 partite. 22 partite. Partiamo da qua. Punto 2. Ieri è stata una bellissima partita, dove mi hanno scritto anche amici che tifano Napoli, amici tifosi del Napoli, dicendomi anche loro che è stata una bellissima partita, che il Milan non meritava di perdere, eccetera, eccetera. Abbiamo perso una partita dando tutto, giocando da Milan. Poi gli episodi hanno fatto sì che la spuntasse il Napoli. Ok? Ma questo fa parte del calcio. Non si può pretendere che ogni partita si vince, a mani basse o si vince. Neanche il Real Madrid le vince tutte. Ce lo vogliamo mettere in testa, sì o no? Punto 2. Cosa devono dire i tifosi della Juve in questo momento? A ora, a oggi sto parlando. A oggi. Poi vediamo. In futuro può cambiare qualsiasi cosa. Cosa devono dire i tifosi dell'Inter? Sempre parlando a oggi. Ma voi ci siete o ci fate? Nessuno mi dice di andare allo stadio e fare i chilometri. Se non ci volete andare, non ci andate. Io ci vado volentieri. Mi sono fatto Torino-Milano, Milano-Torino. Nonostante il Milano ha perso, non fa niente. A me quello che mi interessa è che la squadra gioca, dà tutto per la maglia, si impegna, corre e combatte. Questo mi interessa a me. Al momento che tutto ciò esiste, perché è un dato di fatto, tutto ciò esiste, stop, a me non mi interessa più nulla. Perché poi purtroppo gli episodi fanno parte del calcio. Anche noi abbiamo vinto delle partite dove non abbiamo fatto chissà che prestazione, ma abbiamo sfruttato la palla goal. Gli avversari magari hanno tirato un po' di più. Hai vinto tu. Ieri è stato così. Noi abbiamo tirato un po' di più, il Napoli ha tirato un po' di meno, ma alla fine il Napoli è stato più bravo, più bravo a sfruttare le occasioni che ha avuto. Noi siamo stati meno bravi a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto. Ma come partita è stata bellissima, giocata alla pari in tutti i reparti. in tutti i cazzo di reparti. Quindi tifosetti del Milan che pensate, uno che siete tifosi occasionali, perché magari anche gente che va due volte all'anno a San Siro e si lamenta pure. E vabbè, povero, che ti devo dire? Ha fatto 22 partite senza perdere il Milan. Quindi ragazzi, cosa state aspettando? Cosa volete? Che una squadra è imbattibile, non esistono le squadre imbattibili. Ripeto, non andate più a Milano, cambiate squadra, cambiate squadra, iniziate a guardare l'Inter, tifate l'Inter, tifate la Juve, tifate qualsiasi altra squadra, fate un po' come vi pare. Ma è ora di finirla e iniziare a leggere le partite, le vittorie, le sconfitte, come cazzo vanno lette. Ok? Spero di essere stato molto chiaro. E con questo, sempre, forza, vecchio cuore, rosso-nero. E iscrivetevi al mio canale. Clicca, 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 vi aspetto numerosi, è sempre, forza, vecchio cuore, rosso-nero. E anche ieri, nonostante abbiamo perso, si è girato Giroud. Ed è la prima volta che Giroud si gira e non vinciamo, quando Senna abbiamo sempre vinto. E vabbè. Succede, succede, fa parte del calcio. Ok? Quindi, soft e tranquilli. Ciao a tutti ragazzi.